Pensate mai di allargare la famiglia? Sì, Alessandro vuole una squadra di calcio Undici maschietti No vabbè, non undici, però sì, assolutamente che ci pensiamo Però si aspetta il momento giusto Amore, eh sì, eh sì, eh sì Come lo diciamo a tutti? Lost in Cab è che si espalde Oh, no, 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 no È scoppiana È definitivo Oh, è definitivo Ciao amore! oh Grazie a tutti. Quindi siamo incinti? Noi siamo incinti. C'è dentro c'è un bambino. Ciao!